sembra che quella scatola sia troppo piccola ma cosa devo fare ho un'idea è troppo alto lasciamo stare dai sistemati sammy ma che succede la mia scatola dei giochi ancora scatolati è troppo piena su allora c'è una soluzione ovvia dobbiamo disimballarli vieni che approccio interessante ciao ragazzi oggi faremo un enorme unboxing ecco la variegata collezione di giocattoli di sam che apriremo oggi per liberare un po di spazio per la nuova collezione sono così curiosa di sapere cosa ci aspetta da dove cominciamo che ne dite dei disney dorables ne abbiamo già fatto un unboxing ricordate ci sono personaggi disney con gli occhi brillanti che ci aspettano dietro le quinte ce ne sono così tanti chissà chi troveremo questa volta apriamo e sbirciamo dentro va bene allora guardate qui ragazzi è un palazzo di appartamenti apriamo questo wow conosciamo il proprietario di questo appartamento bene bene apriamo il sacchetto chi c'è qualche idea tada è nala del re leone ha degli enormi occhi verdi ed è vellutata al tatto adesso scopriamo il vicino di casa di nala che belle finestre chissà chi si nasconde qui ecco il nostro sacchetto mi chiedo se avremo un altro personaggio del re leone vieni fuori tesoro ragazzi e bogo di zotropolis guardate il suo sguardo severo proteggi la nostra nala capitano se ne voglio aprire uno anch'io posso tieni sammy grazie wow guarda che porta insolita scopriamo chi vive qui un rapido movimento della mano e alice ha una tazza in mano scommetto che sta andando a prendere il tè con il cappellaio matto io guarda io il principe eric è quello della sirenetta sembra che stia cercando di scrutare qualcosa col cannocchiale vediamo adesso chi c'è dietro questa porta rosa tutte le porte della collezione sono diverse mentre i sacchetti sono uguali scopriamo che abbiamo qui wow è il principe alidi aladin indossa un elegante abito bianco e stupendo ti presenti i tuoi amici principe ok chi è il prossimo grazie per questa ampia scelta sammy non mi stupisce che ti piaccia visto che ho un gusto perfetto sì proprio così allora prendiamo i cutie tootie ricordiamoci che dobbiamo spremere lo slime e trovare la sorpresa ok apriamo il pacco e dentro c'è questo simpatico poopsie abbiamo le istruzioni e anche la guida del collezionista wow quanti giocattoli divertenti non vedo l'ora di vedere chi troveremo diamo un'occhiata a questo poopsie è così brillante e sorridente adesso vediamo che cosa c'è dentro non è stato facile ma ce l'ho fatta sono curiosa di scoprire che cosa c'è ma guardate che bel pinguino e ha un corno dorato ragazzi guardate queste enormi ciglia ed è il momento dello slime è così piacevole al tatto figo non dimentichiamoci di rimetterlo nel contenitore poopsie così non si asciuga e abbiamo flipper con lo slime rosa si o chi pensi che si schiuderà da queste uova temo nessuno sammy ma ho capito cosa vuoi dire qui abbiamo 24 uova delle ecci moles della serie new night glow molto interessante sì non vedo l'ora di vederle tutte devono essere così luminose guardate che bei cuori facciamo schiudere l'uovo e vediamo chi si nasconde qui dentro va bene ancora un po dai vieni fuori tesoro fatti vedere oh ma che carino è un camaleonte rosa ha una coda buffa e delle ali dorate che carino ciao tesoro troviamo un amico al nostro camaleonte apriti bene bene chi sei un alligatore guardate i suoi occhi gentili e questa buffa pancia gialla si è da tanto tempo che non apriamo gli ecci moles possiamo aprire questi ma certo ne prendo un paio anch'io chissà chi si nasconde apriti guardate ragazzi vedo già una cresta gialla ed è un cavalluccio marino con le sue ali dorate spiegate e adesso ragazzi facciamo un po di magia siete pronti guardate questo piccolo amico è un adorabile tricheco con la faccia rosa e i denti bianchi figo guarda si ho due gemelli del tuo camaleonte del tuo cavalluccio marino fantastico si divertiranno un sacco insieme e adesso tu tu e tu seguitemi presi diamo un'occhiata da vicino ai nuovi piccoli amici abbiamo una simpatica zebra con la criniera riccioluta c'è anche questo castoro con denti a guzzi e la codina rosa oh è adorabile e poi c'è questo ghepardo guardate come si sta lavando mi piacciono tantissimo questi decori sì io scommetto che c'è un drago nel prossimo uovo ed io scommetto che c'è un pinguino vediamo coviamolo così ed è il rullo di tamburi un pinguino avevo ragione sammy guarda quanto è bello si sta tenendo la testa con le ali è dolcissimo sei solo stata fortunata la prossima volta avrò ragione forse il tuo drago è in uno di questi sono un ape è un castoro ciao signor castoro ciao signorina ape i tuoi occhi sono bellissimi e hai una bella pancia rosa tu benvenuti ragazzi vi presento i vostri nuovi amici ehi si è ora di aprire un'altra dozzina di uova sono così emozionato scopriamolo anch'io sammy penso che queste quattro siano pronti a schiudersi perché non acceleriamo un po eh allora abbiamo personaggi familiari un castoro una zepra un ape un cavalluccio marino sai si mi piace trovare dei gemelli nei nostri giocattoli in questo modo si fanno compagnia allora speriamo di trovarne altre scherzo vorrei trovare un personaggio nuovo che c'è qui guardate è un piccolo squalo e nell'altro uovo c'era un pinguino gemello che bella pancia rosa che è il nostro squalo non sembra per niente spaventoso si lascia che ti aiuti tieni sammy e questo è tutto prendine un altro adesso si che si ragiona ok vediamo abbiamo quattro uova e tanta magia guardate qui questo è il signor bruco è un personaggio nuovo che belle pieghette che ha qui sulla coda guarda si ho una scimmia anche questa è nuova è da così carino ci sta facendo l'occhiolino qui abbiamo un camaleonte un simpatico ghepardo e un allegatore che già conosciamo ho trovato questo gemello del nostro tricheco con questa scimmia e questo bruco abbiamo tutta la collezione adesso voglio aprire questo unicorno poopsie sembra sospetto che c'è di sospetto io non vedo niente penso che sia falso sammy sembra davvero falso sì stavo testando la tua professionalità hai superato il test c'è uno di questi meravigliosi unicorni che ci aspetta qui dentro e sei sorprese magiche cominciamo intanto togliamo l'involucro di plastica così il primo strato e via adesso è il turno del secondo vedo già una palla trasparente con un sacco di buste apriamola comincerò con questo sacchettino chissà cosa c'è dentro questi sono adesivi sono così scintillanti potete metterli sui vostri quaderni ad esempio nel secondo c'è un ah ah guardate questo simpatico poopsie giallo che dolce dentro potremmo metterci qualcosa terzo sacchettino è il tuo turno non vedo l'ora di vedere che cosa c'è dentro ragazzi credo sia un pettine per i bellissimi capelli del nostro misterioso ospite guardate questo minuscolo sacchetto chissà cosa contiene è un grazioso biberon blu per nutrire il nostro unicorno sio sai cosa hanno in comune questi cert poopsie compresi quelli finti gli slime ovviamente ma questo è un po strano sio questo slime si è seccato si può dire che è davvero falso hai ragione questo slime non è affatto uno slime ho lasciato l'unicorno per ultimo chissà di che colore sarà la sua criniera accidenti che meraviglia guardate queste ciocche viola e rosa e queste bellissime orecchie vestiamolo wow che bel vestito che ha ragazzi questo top blu con scritte dorate si adatta perfettamente ai suoi pantaloncini gialli questa è già aperta eh tranquilla suzi l'ho aperta io non è giusto stiamo facendo l'unboxing sì lo so ma lo stai facendo così lentamente che slime impaziente che sei ragazzi ho deciso di fare l'unboxing di altri disney dorables vediamo che abbiamo qui venite fuori campanellino della storia di peter pan sembra un po arrabbiata però mi piace tantissimo fare l'unboxing di questi set adoro i personaggi disney guardate ho trovato le tonde la bella e la bestia guardate il suo ciuffo e che smoking si avevamo già jasmine da aladin no ma è fantastica dovresti andare al ballo con questo vestito tesoro ed ecco il tuo accompagnatore sono un po stanca di aprire queste buste usiamo un po di magia e walla oh ma ciao ragazzi questo è timon dei re leone è il mio personaggio preferito allora apriamoli chissà che troveremo vediamo chi è questo personaggio che tiene un cappello in mano sammy tu lo conosci sì o quello è pincopanco di alice nel paese delle meraviglie ah buona sapersi divertitevi ragazzi torno presto sì o che ore sono è l'ora dello slime che colore verde acido wow è così difficile sammy da quanto tempo tieni quei giocattoli se ho gli slime migliorano solo col tempo beh non questo ehi sembra un mandarino ha persino una foglia verde sulla testa abbiamo tanghi con lo slime rosa al gusto mandarino ragazzi stanno arrivando due piccoli set di dorables ecco un indovinello quanti personaggi ci sono qui due o tre quale devo aprire sammy quello a destra ok lo apriamo e abbiamo due giocattoli qui guarda è candoled di ralph i suoi capelli verdi sono raccolte in simpatiche code di cavallo il secondo ospite della casa è il maialino può del film di animazione oceania che bel fiore che ha in testa è così carino sì o perché queste porte hanno colori diversi perché quella è un'altra collezione sammy qui possiamo trovare altri personaggi ma mi chiedo chi wow li riconosco questa qui è celia di monsters and co è così strana ha solo un occhio e moltissime gambe e il suo vicino è ehi ehi il buffo gallo con gli enormi occhi di oceania adoro la sua cresta stupenda guarda quanti ne abbiamo qui facciamo una pausa dai personaggi disney e scartiamo questo make up surprise abbiamo più di dieci sorprese all'interno ci sono il lucida labbra gli ombretti uno slime a cui aggiungeremo tutto il trucco sdrossoliamo subito il pacco guarda quanta roba c'è qui qualcosa di interessante ci sta aspettando apriamo il primo sacchetto a sorpresa e dentro troviamo queste sono perle profumate non vedo l'ora di annusarle qui invece abbiamo due polveri slime le scopriremo più tardi e questo deve essere il lucido sono curiosa di vedere il colore scommetto che qualcosa di insolito è verde proviamo ad applicarlo sulla nostra mano guardate come brilla e qui dovrebbe esserci un cucchiaio speciale per mescolare tutto lo slime la prima metà eccola qui e la seconda le colleghiamo fatto io questo bel cucchiaio è per me no sammy è per lo slime del set lo mischieremo proprio con questo rossetto bellissimo c'è una sorpresa anche qui presto vediamo cos'è wow è così bello è un misurino guarda quanti brillantini ed ecco l'ultima bustina del rossetto gigante questo ombretto ha la forma di un ananas unicorno diamo un'occhiata all'interno il colore dell'ombretto è lo stesso del lucida labbra wow stupendo si cosa ti serve adesso l'acqua grazie sam ok versa l'acqua nel contenitore così un'altra volta e poi aggiungiamo la polvere magica dello slime chiudiamo e cominciamo a scuotere tutto insieme ragazzi se vi piacciono gli slime come a me date un pollice in su e iscrivetevi mi raccomando nel frattempo lo slime è pronto tiriamolo fuori wow è venuto bianco come la neve è fantastico bianco si umano io uso gli slime dovrebbero essere coloratissimi aspetta sammy adesso lo coloriamo aggiungiamo le perle profumate così schiacciamole che odore hanno si um ah di ananas ecco qui adesso invece mescoliamo non c'è fretta con attenzione così volevi renderlo lucente ma è ancora bianco sì ma guarda come brilla e profuma di ananas aggiungiamo infine un po' di colore prendiamo un po' d'ombretto così dai si ho più colore ed ecco che arriva anche il lucido perfetto adesso mescoliamo di nuovo tutto in questo modo adoro fare gli slime sono così belli da toccare wow si è venuto fuori uno slime colorato guarda come brilla hai ragione sammy sembra un enorme gomma da masticare alla menta lo mettiamo nel contenitore adesso non puoi prendermi oh sammy aspetta questo non è corretto ha preso ragazzi scopriamo chi avevi qui con te è il lillo di lillo e stitch che bel fiore che ha tra i capelli si abbina al suo bellissimo vestito come avete già notato siamo tornati ai nostri dorables diamo il benvenuto a gaston della bella e la bestia guardate quanto è figo sì e cosa ne dite di un pizzico di magia wow entrambi questi personaggi sono del famosissimo frozen scommetto che li conoscete sono anna e sven e l'ultimo ospite dei dorables tigro di winnie de pooh dov'è la sua coda eccola qui che bella collezione che abbiamo oggi ragazzi e per ultimo abbiamo una bambola lol sammy sei triste che abbiamo quasi finito no per avere roba nuova devi prima sbarazzarti di quella vecchia e adesso spazio per i giocattoli nuovi molto filosofico sammy qui abbiamo una lol surprise air goals ci sono 15 sorprese che ci aspettano all'interno guardate questa bellezza dice che i suoi capelli sono veri guardiamo all'interno tiriamo la cerniera e adesso rimuoviamo il primo strato del pacchetto così guardate che bellissima ragazza dice colorami in modo favoloso con piacere opsì dobbiamo prima prenderla wow ragazzi ho trovato la prima sorpresa si tratta di adesivi a forma di ferma capelli e anche un indovinello il pacchetto è fatto a forma di lacca per capelli apriamo il tappo ed ecco lo spray apriamo la prima bustina di questo set wow è una tracolla per la lacca per capelli alla forma di un ferma capelli in effetti apriamo la porta del tesoro adesso questa è la guida del collezionista e questa qui è la nostra bambola per adesso è in custodia protettiva sì che bella maschera per dormire che ha scopriremo più tardi che c'è qui perché all'inizio voglio dare un'occhiata alle sue cose che cosa può essere che bell'abito bianco e rosa con la pelliccia sul colletto e le maniche scommetto che c'è un accessorio che ci aspetta in questo sacchetto vediamo ma questo è un cerchietto guardate che belle orecchie avete già indovinato chi è il loro proprietario qui invece abbiamo un accessorio sono soffici stivali rosa che carini a proposito nel set ci sono anche questi divertenti bigodini per capelli volete sapere cosa nascondono abbiamo un biberon adoro questi colori e adesso sbirciamo nel secondo ma che bello questo è un simpatico pettine con un enorme fiocco per i capelli stupendo adesso ragazzi conosciamo la bambola wow queste snow bunny ha i capelli rosa le sopracciglia rosa e delle affascinanti lentiggini guardate il suo pigiama tenerezza pura adoro questi divertenti collante sì e ora che snow bunny faccia il bagno giusto sammy il primo passo è immergerla nell'acqua fredda e poi in quella calda wow il suo pigiama è diventato così luminoso ma guarda un po' magico riportiamola alla normalità sì ho alcuni accessori della nostra bambola mi stanno benissimo sammy non sono per te su stanno molto meglio a snow bunny vedi benvenuta a casa tesoro ma guarda un po' magico riportiamola all'acqua fredda e poi in che grande unboxing non pianificato abbiamo avuto oggi sammy ti è piaciuto sì tantissimo ho già ordinato dei nuovi giocattoli aspettiamo che la tua scatola si riempia di nuovo allora ragazzi date un pollice in su se volete vedere altri unboxing ciao ciao sammy mi fai vedere che hai ordinato ciao 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 ciao